Ciao a tutti ragazzi, in questo video risponderò alle vostre domande fatte su Instagram in stile ASMR Allora iniziamo con la prima domanda Qual è la tua serie tv preferita? Ti auguro Innanzitutto grazie mille E comunque la mia serie tv preferita è Gossip Girl, è veramente bellissima e succedono un sacco di cose super emozionanti Allora alla prossima Ti piacerebbe avere un fratello? Allora devo dire che non sarebbe male, perché ti tiene sempre compagnia, però a me piace essere figlia unica perché hai tutte le attenzioni dei tuoi genitori e quindi preferirei essere figlia unica Allora la prossima domanda Vorresti far accoppiare Wolfie? P.S. Sei stupenda Grazie mille e comunque sì, avrei voluto tanto farlo accoppiare Il problema è che ora è stato castrato ormai e quindi non può più fare niente Però sarei stata molto curiosa di vedere i suoi conciuggini Allora la prossima Allora la prossima poi ti piace di più con i capelli corti o lunghi mi saluti, ti adoro grazie, ti muovo e comunque allora io non so decidere fra i capelli corti e i capelli lunghi però in questo momento mi sento coltissima con questi capelli che fra un caldo è incredibile però non lo so non so scegliere continuiamo allora sei bellissima sei fidanzata grazie e comunque non sono più fidanzata da parecchio tempo poi ce l'hai una crush? se si lo sa allora io ce l'ho una crush e comunque credo che non lo sappia però comunque ce l'ho e vorrei tanto dirglielo ma non so cosa direbbe andiamo avanti qual è la cosa a cui tendi di più? ovviamente la cosa a cui tengo di più è la mia famiglia i miei genitori andiamo avanti vorresti avere un altro animale domestico? se si quale? mi puoi salutare please? allora devo dire che non vorrei cioè si vabbè lo vorrei però adesso che ho Wolfie non ne ho più tanto voglia di avere altri animali domestici perché Wolfie è bellissimo e non posso desiderare di più e sta anche qui eccolo qua allora continuiamo con l'ultima domanda che è molto simpatica allora come va? va tutto bene ragazzi? sto facendo molti panni anche se mi dispiace che sto finendo le stote però che ci dobbiamo fare? ed ecco qui ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video ricordatevi di mettere tantissimi like se vi è piaciuto e di iscrivervi a questo canale e adesso possiamo cominciare con i saluti ciao ciao ed ecco qui ragazzi spero di nuovo tantissimo che vi sia piaciuto questo video ci vediamo nel prossimo ciao ciao